Amnesty International sceglie Ischia, in particolare Forio, per la presentazione del rapporto sui diritti umani per l'anno 2017-2018. È una bella occasione, credo sia la prima volta che Amnesty International presenta quello che è il suo principale strumento di lavoro, cioè il rapporto che testimonia della situazione dei diritti umani in 159 paesi. Quali prospettive? Non buone, non buone. Il 2018 è un anno in continuità con quello scorso, di conflitti irrisolti, di un discorso d'odio che si propaga in tanti paesi, di una crisi dei rifugiati che non viene affrontata con misure giuste. Voglio sottolineare che abbiamo scelto questa giornata per venire a Ischia perché proprio oggi ricorrono 30 mesi dalla scomparsa di Giulio Regioni al Cairo. Quindi c'è un doppio motivo per essere qui. Quello per Giulio è un momento di dolore perché 30 mesi senza verità sono terribili, ma è anche un momento per continuare a coltivare la speranza che quella verità arriverà. Parlando dei migranti e del diritto d'asilo in particolare, c'è una difficoltà negli equilibri tra questo diritto e la tendenza del governo gialloverde? Mi pare che la tendenza sia contraria al rispetto dei diritti umani. Non è una novità che si privilegi la protezione dei confini rispetto alla protezione delle vite umane. Siamo arrivati alla forma più estrema di questa scelta di priorità che dal nostro punto di vista sono sbagliate. Occorreva fare le cose in modo diverso, garantire delle condizioni per evitare le partenze, ma condizioni in favore delle persone. E qui siamo arrivati al paradosso che quei paesi che respingono e rifiutano sono poi magari gli stessi che attraverso forniture di armi o altro favoriscono i conflitti. L'Italia sta dando bombe all'Arabia Saudita per bombarrare lo Yemen e gli Stati Uniti che con Trump chiudono le frontiere a tanti sono protagonisti dei disastri peggiori del mondo insieme alla Russia. Quindi andrebbe ripensata completamente questa politica dell'asilo, contemperando diritti, sicurezza perché vanno d'accordo e chi dice che non vanno d'accordo sbaglia. E ci vuole tempo. Sembra che qui nessuno abbia bisogno di fare le cose nei tempi giusti, al contrario abbia l'esigenza di usare metodi sbrigativi, spicci e contrarie ai diritti umani. Diritti umani che a 70 anni dalla emanazione della dichiarazione universale dei diritti umani non sono poi così scontati. Ma Amnesty International sostiene in Italia la campagna Aprite i porti? La sosteniamo, i porti devono rimanere aperti, non è obbligatorio che l'Italia sia l'unico paese ad avere un porto aperto, però chiudere i porti significa aggiungere sofferenza e disperazione a chi ne ha già patita tanta. E quindi da un lato quando è stato detto più volte chi entra in Italia entra in Europa, questo è un principio sacrosanto, i porti devono rimanere aperti, aprirne di più ma non chiuderne.